Sulla tematica della riserva della Borsacchio, il WWF invia una richiesta impugnativa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con l'intento di promuovere la legittimità costituzionale in merito alle disposizioni che hanno ridotto di 24 ettari la stessa riserva, eliminandone la fascia collinare dell'area. Nel documento vengono sollevati diversi punti di legittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge regionale 4 del 2024. Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha manifestato chiaramente contrarietà alla nuova perimetrazione dell'area. Il Sindaco sottolinea come non ci sia stato un dialogo con il territorio di cui è rappresentante e gli uffici regionali preposti a seguito degli accessi agli atti da parte del WWF Abruzzo attestano di non essere stati anch'essi coinvolti per l'elaborazione del nuovo perimetro della riserva. Perciò si darà seguito alla questione con l'impugnativa e nella nota del WWF si richiama anche all'obiettivo riportato nella strategia europea della biodiversità che ha stabilito il raggiungimento entro il 2030 di almeno il 30% di territorio efficacemente protetto.